Bentornati all'appuntamento con la rubrica dedicata agli animali selvatici. Sono in compagnia di Marcello e siamo a Civitella del Tronto e nello specifico in un ruscello in cui i cinghiali vengono a farsi il bagno. E' proprio del cinghiale che parleremo in questa puntata. Certo Turica, infatti ti ho portato proprio nel punto in cui i cinghiali vengono a fare il bagno di fango. Questo è un ruscello che si trova proprio sotto il paese. Loro scendono da questo sentiero, arrivano qui e poi con il muso scavano proprio delle zone tipo questa, vedi che è circolare, dove poi si sdraiano e fanno il bagno. Lì ce ne sono tante altre e questa pozza l'hanno allargata per bene. Perché il cinghiale decide di fare il bagno e poi proprio qui? Allora lo fa per due motivi principalmente, perché uno è per togliersi i parassiti di dosso, infatti lo vediamo non solo fare il bagno ma anche grattarsi quando fa il bagno. E un altro motivo è per tenere la pelle morbida, quindi il pelo per tenerlo bello morbido. Qualche altra curiosità su questo animale? Sì, allora la prima cosa che ti voglio dire è che in Italia ci sono veramente tantissimi cinghiali, ce ne sono circa un milione e mezzo, quindi è un animale che sta creando anche tanti danni alle colture, agli agricoltori con danni per diverse centinaia di milioni. Una curiosità è che il cinghiale riconosce i propri parenti, quindi tutti i gruppi, tutti i branchi di cinghiali che vediamo insieme sono composti tutti quanti da animali che provengono dalla stessa famiglia, anche di generazioni passate. Ho una curiosità, i cinghiali scendono sempre più verso la città, questo perché? Perché ce ne sono sempre di più e quindi loro sono sempre in cerca di cibo, sono animali che si spostano molto e quindi dove trovano il cibo e dove trovano il cibo più facilmente vanno. Quindi magari nelle città dove ci sono i cassonetti dell'immondizia, le discariche fuori dai paesi possono facilmente arrivare i cinghiali. Sono pericolosi per l'uomo? Allora, possono essere pericolosi e possono non esserlo, dipende da come l'uomo si pone al cinghiale, davanti al cinghiale, perché per il cinghiale noi non siamo dei predatori, quindi non ci vede pericolosi. Se però abbiamo degli atteggiamenti aggressivi, allora tende a difendersi. Allora è facile che magari una femmina ci carichi perché vuole difendere i cuccioli, oppure anche un maschio che vede il suo clan minacciato ci venga a caricare. Ma cosa mangiano? Sono onnivori, mangiano un po' di tutto, quindi dalle ghiande ai piccoli, piccoli lombrichi, ai molluschi che trovano magari nel fango, nel terreno, non disdegnano anche degli insetti a volte, però mangiano veramente di tutto. Grazie Marcello per queste informazioni che ci hai dato e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata.